Bentornati amici di Di Pomeriggio a uno dei nostri incontri. Accanto a me ho due donne molto impegnate, soprattutto in questi giorni, perché fanno parte dell'organizzazione di un festival molto attivo, molto importante, giunto alla sua terza edizione, il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga. Benvenute a Nadia Ragonici, lei è la referente territoriale e il coordinamento delle comunità della Laga, e a Lisa Di Giovanni, che è responsabile per la comunicazione dell'ufficio stampa del festival. Benvenute. Grazie Barbara, buongiorno a tutti. Grazie Barbara, un saluto a tutti i telespettatori. Grazie a voi di essere qui. Dunque, il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga ha dei numeri veramente importanti, perché ha un'estensione temporale, ha un'estensione territoriale tale, per cui coinvolge per tanto tempo, si parla proprio di un periodo di nove mesi, da aprile fino a dicembre, quindi insomma, tanto tempo, ma tantissimi eventi. Lisa, ci dai un po' di numeri? Allora, molto volentieri. Il terzo anno del festival è partito proprio il 13 aprile a Teramo, nella Camera di Commercio. Abbiamo quattro regioni, cinque province, diciotto comuni e cinquantasette eventi, che finiranno per fine anno, a dicembre. L'inaugurazione a Teramo è stato un vero successo. Abbiamo avuto, ovviamente, il patrocinio della Camera di Commercio. Oltre alla Camera di Commercio, quest'anno abbiamo fatto un salto di qualità enorme, in quanto abbiamo avuto il Ministero della Cultura, il Servizio Geografico Italiano e anche il Parco Nazionale Monti della Laga. Questo festival ha avuto un upgrade impressionante. Arrivare a 18 comuni, quindi avere queste amministrazioni che sostengono queste persone che sono partite il primo anno con un solo comune e sono partite in modo, diciamo, assolutamente volontario. Il che significa che le persone che si sono prodigate per far sì che questo festival arrivasse a diventare questa manifestazione importante e visibile, lo hanno fatto in modo del tutto gratuito. Ecco, questo è importantissimo. Allora, diciamo che proprio il festival nasce con l'intento di valorizzare, far rinascere questi territori, che tra l'altro sono molti o forse tutti, adesso mi dirai, Nadia, facenti parte del cratere, sono territori anche colpiti dal terremoto. Sì, assolutamente sì. Sì, sono borghi, non tutti, ma diciamo la maggioranza di questi borghi coinvolti sono proprio protagonisti di vicende, insomma, non piacevoli. Però attraverso questo festival vogliamo dare una luce diversa e una speranza diversa, soprattutto alle comunità che si sono sentite abbandonate dopo questi eventi ambientali e anche del terremoto, del recente terremoto. Quindi quello che vogliamo fare è proprio in maniera volontaria, ma speriamo che diventi un qualcosa anche di più virale, si capisca l'importanza di questo progetto, perché come diceva giustamente Elisa, quest'anno ci sono delle novità importanti. Comunque c'è il patrocino del Ministero della Cultura. Importa molto. Davvero, c'è stato anche l'ultimo incontro che abbiamo fatto su Roma, tutti i referenti insieme anche ovviamente a Elisa e a Federtrec nazionale, ci siamo resi conto di quanto questo progetto sia sotto l'attenzione del Ministero della Cultura, ma anche della Società Geografica Italiana, perché si vuole dare una sorta di legame tra la Laga, che comunque è stato un territorio fondamentalmente con luci spente per tutto il tempo, oggi sta iniziando ad avere davvero la sua visibilità. Grazie a questo progetto. Tu come coordinatrice tra l'altro ti trovi proprio a... Io sono della rete territoriale, diciamo di questo coordinamento, che è nato davvero in maniera spontanea. Dal basso. Dal basso, dalle comunità, e abbiamo proprio voluto dare un segnale anche forte, perché se pensiamo che lo scorso anno erano coinvolti otto comuni, oggi siamo diciotto, diciamo diciannove perché c'è anche la comunità di Alvi, di Crognaleto, e ci teniamo anche a segnalare questa cosa, perché anche il territorio è stato colpito da calamità naturali importanti, è voluta rimanere all'interno di questo percorso del festival, quindi un impegno importante perché considera che noi referenti, siamo sette referenti per i vari comuni, che comunque erano comuni presenti lo scorso anno, ci sentiamo tutte le settimane attraverso delle zoom, quindi ci mettiamo insieme delle nostre esperienze, ma anche le idee, per poter poi realizzare un qualcosa anche di diverso rispetto allo scorso anno. Tra l'altro ci sono delle novità rispetto allo scorso anno, perché intanto la partecipazione del Ministero, ma poi anche con la direzione della cultura, la direzione generale, attraverso delle ricercatrici che hanno posto proprio l'importanza di questo progetto, di dare un valore alle risorse non solo materiali del territorio, ma anche immateriali, quindi cultura, tradizioni, che non vogliamo assolutamente perdere. E per quello che il festival in realtà va a cercare nei suoi percorsi. Diciamo, ricordiamo che sono sempre gli appuntamenti che voi proponete, sono appuntamenti itineranti, giusto? Sì, sono appuntamenti itineranti, non si pensa ad una sagra di paese, cioè quindi il concetto è completamente diverso. È un festival che si pone proprio l'obiettivo di far rivivere le tradizioni di quel posto, attraverso proprio le comunità residenti, anche non residenti, perché molti borghi sono disabitati. Quindi abbiamo riportato con quest'idea le persone a vivere questi posti. Il concetto è proprio della restanza, di ritornare sul territorio e anche di sviluppare le aziende che sono sul territorio, perché comunque si coinvolgono anche le attività che insistono su quel borgo in modo particolare. Quindi non so, i pastori che producono il formaggio, oppure delle aziendine che producono farina o anche la pasta. Cioè davvero è una sorta di mettersi insieme per farci conoscere fuori, per farci conoscere all'esterno. E ci stiamo davvero riuscendo, perché... Grazie anche all'ottimo lavoro di Lisa, di Giovanni, perché Lisa, quanto lavoro c'è di comunicazione dietro alla presenza di un festival come questo all'interno dei palinzesti? Allora, la comunicazione è fondamentale. La notizia deve essere messa assolutamente in rete, perché se non viene messa in rete non viene valorizzato quello che viene fatto. Nelle scorse edizioni non c'era un ufficio stampa, ma in questa terza edizione è stato fondamentale metterlo. Io sono stata chiamata, perché ovviamente ho degli ottimi rapporti con Nadia, ma anche con il referente di tutti i coordinatori di questo progetto che è Roberto Gualandri, nonché con lo scrittore Domenico Cornacchia. Come in tutte le cose, bisogna creare le sinergie. Per me è stato semplice tornare ad occuparmi tra virgolette della vallata, perché io sono di origini abruzzesi. Quindi ricordiamolo, sei di origine abruzzese, ormai diciamo stanziale, a Roma, dove lavori, insomma ti occupi di comunicazione, però hai accolto questo progetto come un progetto in cui ti sei proprio data moltissimo. Sì, allora, io quando vivevo in Abruzzo ho fatto una gavetta tremenda per studiare, per laurearmi, anche poi per andare oltre il Gran Sasso. E quindi tutte le volte che mi arriva qualcosa di nuovo, qualcosa, diciamo, qualche progetto che è un po' alle prime armi, in questo momento, dove io mi trovo nella condizione di poter valorizzare, lo faccio con tutto il cuore. Perché? Perché io credo che molte volte bisogna dare quel qualcosa in più, senza chiedere nulla in cambio. E quando mi hanno chiamata, nonostante i miei impegni, ho detto non fa niente, anche perché comunque io, diciamo, la mattina mi sveglio alle 5 per fare tutto quello che faccio, e quindi ho detto torno nella mia vallata e mi rendo utile, perché insomma questo poi mi fa sentire bene. La comunicazione è stata molto importante, perché io, come, diciamo, da buon giornalista, ho iniziato a diffondere la notizia molto prima, questo è stato fondamentale, per far sì che i tre eventi che ci sono stati, che sono stati proprio il fulcro, quindi quello di Teramo alla Camera di Commercio, e il 13 di aprile, il 16 a Folignano, all'interno di Libra Arte, quindi due festival che si sono incontrati, e quello che c'è stato il 23 di aprile, a Roma, all'interno della Villa Celi Montana, sono stati eventi veramente eccezionali, sia per, diciamo, il contenuto degli eventi, e quindi la tavola rotonda, gli ospiti che abbiamo avuto, ma soprattutto proprio perché abbiamo ricevuto la direzione generale del Ministero della Cultura, abbiamo avuto il presidente della Società Geografica Italiana, abbiamo avuto due ricercatrici che sono state fondamentali per noi, ma soprattutto le persone, ossia coloro che hanno fatto nascere questo festival. Nascere e crescere, perché in queste edizioni, devo dire che c'è stata proprio una crescita che è sotto gli occhi di tutti. Un'altra novità dell'anno è proprio questo fuori festival, un fuori festival che vede, diciamo, protagonisti i parchi, questo territorio, queste riserve, no? Che sono, tra l'altro, tra le varie regioni. Quest'anno, appunto, c'è le regioni coinvolte, sono Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, e quindi, insomma, cresce. Nello spirito dell'integrazione, Barbara, quindi è proprio integrare più culture, integrare più esperienze e anche più vissuti. Quindi questo è stato l'obiettivo, proprio di coinvolgere anche anche borghi che hanno una similarità, ma poi sono diversi nella, diciamo, nella gestione, diciamo, degli eventi. Sì, un fuori festival che non è compreso all'interno dei borghi, quindi all'interno del progetto, ma che comunque vuole riscoprire i territori attraverso Federtrek, perché, diciamo, lo scopo di Federtrek è l'escursionismo in maniera particolare, quindi far conoscere proprio il territorio in maniera geografica. Allora, in chiusura di questa nostra chiacchierata, intanto diamo appuntamento fra pochissimo a Frondarola, perché Nadia, insomma, l'abbiamo rapita dall'evento che riguarda proprio Villa Tordinia e Frondarola. Oggi, questa mattina c'è stato tutto... Dedicato appunto alla giornata del lavoro, questa mattina c'è stata una rivisitazione, quindi una mostra del mestiere del ramaio proprio alla ramiera di Villa Tordinia, che è un borgo che insiste sul Comune di Te, che eramo, e un po' i mestieri del passato, appunto una tradizione del passato. E anche un recupero, no? Della storia, delle culture, di questo patrimonio immateriale che fa parte proprio della nostra storia. E poi nel pomeriggio saremo impegnati questo pomeriggio su Frondarola. Fra pochissimo, eh? Fra pochissimo, quindi proprio siamo agli sgoccioli, perché insieme al professore Elzo Serpentini, che ringrazio ovviamente per la partecipazione, ricostruiremo un po' la storia di questo territorio, insieme a Rocco Poch, che lo farà in maniera, diciamo, musicale, cantata, perché appunto lui non canta storie. E poi ringrazio anche i ragazzi del FAI, del gruppo FAI Giovani, perché metteranno a disposizione la loro cultura, e quindi i loro studi, e ci permetteranno di spiegare che arriverà da fuori le peculiarità dei nostri borghi. Ecco, quello che proprio si capisce dalle parole che ho ascoltato, insomma, e dal grande programma che c'è del festival, è proprio questa voglia, e questa necessità, e anche, diciamo, questo lavoro di integrazione, integrazione di comunità, di associazioni, c'è un grande lavoro corale intorno a questo festival, ed è forse proprio la chiave del successo. Sì, la passione, sicuramente, è proprio la voglia di riscatto, perché sono stati borghi, sono state comunità per troppo tempo silenziose, e anche, come dire, senza una luce. E una piccola cosa, io dico sempre, dal fare anche poco, si può iniziare a fare tanto, perché già questo risultato di aver interessato e coinvolto tantissime comunità, rispetto allo scorso anno, ma anche avere un ufficio stampa per noi, che cura tutta la parte di comunicazione, come appunto con Lisa Di Giovanni, che è una giornalista a cui noi, che io stimo profondamente, ma si è visto proprio il salto di qualità che abbiamo fatto a livello di comunicazione, quindi questa è stata una cosa molto importante per noi. però, come dicevi tu, c'è dietro davvero quella voglia, quell'entusiasmo, che riesce a trascinare un po' anche le varie comunità, perché le comunità sono fantastiche, mettono a disposizione, in maniera volontaria, in maniera gratuita, i prodotti del territorio, le attività, quindi, cioè, è veramente un festival delle comunità, questo è una cosa grandiosa, e spero, cioè questo è un messaggio che voglio lanciare un po' alle istituzioni, spero che lo capiscano, che capiscano che stiamo facendo una cosa davvero importante e deve diventare di attenzione delle nostre istituzioni, perché non è un qualcosa che deve rimanere di passaggio, quindi il sabato o la domenica passiamo con il festival, vabbè è finito lì, no, questa cosa deve continuare e deve portare avanti un progetto che deve essere permanente e non temporaneo. Bene, bene, e allora, con questo, diciamo, appello alle istituzioni, perché, diciamo, come dire, riconoscano anche ufficialmente, perché il volontariato è bello, però, insomma, c'è bisogno anche di un sostegno da parte delle istituzioni, soprattutto quando ci sono, eventi che coinvolgono un territorio vastissimo di aree interne, che poi, tra l'altro, sono proprio quelle che in questo momento sono più attenzionate, perché hanno bisogno di un grande sostegno per la rinascita e lo sviluppo socio-economico. E allora, io, prima di salutarvi, ricorderei i prossimi appuntamenti che non sono esaustivi, perché il festival ha, l'abbiamo detto, 57 appuntamenti, non potrei qui elencarli tutti, perché ci vorrebbe tutta la trasmissione, vi elenco, vi dico solo che sabato 18 maggio l'appuntamento è a Ripe, a Civitella del Tronto, domenica 19 il festival a Montereale, domenica 26 a Villaripa, a Teramo. Ma questo si incrocia poi con il Fuori Festival, che ha come date, cioè una settimana di Fuori Festival, dal 25 maggio fino al 30, fino a giovedì 30 maggio, e vi consiglio di seguire tutti i canali digitali dove il programma del festival è aggiornato giorno per giorno, ora per ora, tra l'altro, ecco, Lisa ne sa qualcosa. Assolutamente, basta digitare su Google, escono tutte le notizie e ovviamente seguire le nostre pagine e il nostro sito. Ecco, allora andate, andate e seguite le pagine Facebook a sia il gruppo sia la pagina. Borghi e Sentieri della Laga. Borghi e Sentieri della Laga e c'è anche il sito internet, il programma lo trovate lì, ci sono tantissimi appuntamenti, non avete scusa, dovete per forza partecipare perché vi passa accanto in un modo o nell'altro, in un giorno o nell'altro, vi passa vicino, quindi anche i più pigri saranno costretti ad alzarsi dal divano e andare a fare una passeggiata. Ora, quindi, con questo io saluto le mie ospiti, grazie molto veramente di essere state qui a parlare di questo festival veramente interessante, grazie Nadia Ragonici, grazie Lisa Di Giovanni. Ma noi ringraziamo voi che ci avete dato questo spazio perché per noi è importante la comunicazione, quindi comunicare il più possibile di queste opportunità perché ci sono e affinché tutti vengano a partecipare, quindi grazie a voi assolutamente. Grazie. Grazie infinite e buon festival a tutti. Buon festival a tutti, allora. E vuole virtù oggi perché oggi è un giorno virtuoso per il terramano. E a voi buon festival perché tornate adesso a Frondarola, tutti a Frondarola. a Frondarola. a Frondarola. a Frondarola. a Frondarola. Grazie.